E' polemica sul bando per l'affidamento dei box realizzati al porto rifugio di Gela grazie ai fondi europei attraverso lo strumento del GAC. Ieri è stata netta la presa di posizione dell'Associazione dei Pescatori presieduta da Davide Calabrese che in una nota aveva riferito che si tratta di un bando che determinerà figli e figli astri tra gli operatori del settore, tra chi avrà l'attribuzione del box e chi invece rimarrà senza. Una discriminazione che secondo i pescatori sarebbe determinata dal fatto che l'assegnazione verrà fatta in forma singola e non associativa fomentando così le divisioni tra gli operatori del porto. Oggi interviene il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. I grellini sostengono che ciò che denuncia l'Associazione dei Pescatori è molto grave. Per certi aspetti però la questione attiene semplicemente ad un modus operandi che peraltro si ripete privo di ogni capacità di condivisione nonché di concertazione. Per altri aspetti invece getterebbe delle ombre circa l'uso di fondi pubblici a beneficio di una categoria di operatori economici ben identificata, quella dei pescatori. Sui fondi pubblici, in questo caso europei, il Movimento 5 Stelle aveva seguito tutta la parte iniziale del progetto che sarebbe poi stato finanziato stabilendo di concerto con l'assessore Damante le priorità del comparto pesca. Successivamente, dicono i pentastellati, sia l'Associazione Pescatori che il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle perdono il totale contatto delle azioni successive al finanziamento, nonostante fosse stata presentata, tra gennaio e febbraio, la prima richiesta di accesso agli atti per controllare che l'Itera stava proseguendo come da progetto ma senza alcun riscontro. Ma proprio in questi giorni, si legge in una nota, abbiamo presentato la prima di una serie di richieste di accesso agli atti per chiarire e dimostrare che certamente il bando per il finanziamento di poco meno di 200.000 euro sia stato rispettato in tutte le sue voci, se siano stati rispettati i parametri per l'ottenimento degli stessi finanziamenti. Il bando, infatti, rivolgendosi esclusivamente al comparto pesca, prevedeva la vendita del pesce a chilometro zero, la fornitura di box per il ricovero delle attrezzature, la cui mancanza in questi anni ha prodotto una serie di sanzioni da parte della Capitaria di Porto a carico dei pescatori che depositavano le reti sulla banchina, non avendo altre alternative. Ma chiaramente, senza l'ausilio di banconi certificati per la vendita del pesce, senza una struttura ombreggiante, senza servizi primari di acqua e luce e della macchina che produca il ghiaccio, viene snaturato del tutto il progetto di rilancio del comparto economico della pesca. Sarebbe facile concludere che si occupano parecchie energie per megaprogetti che poi producono decreti ministeriali senza alcun riscontro per il territorio di Gela, piuttosto che pensare al rilancio economico di una città in grave stato di sofferenza sociale, economica ed ambientale. Attendiamo, chiudono i grillini, di recepire la documentazione necessaria per arrivare alle reali conclusioni. L'auspicio del Movimento 5 Stelle è quello di poter accedere agli atti senza alcuna resistenza e di poter avere tutta la disponibilità dell'amministrazione per spiegare ai cittadini che ognuno, grazie al sostegno dei fondi europei, può ripartire dando un contributo al proprio territorio senza sottostare a ricatti occupazionali dettati soprattutto da uno stato di emergenza accrescendo solamente l'esasperazione sociale che poco servirebbe a costruire per rialzarci.